E' una delle facce nuove del Catanzaro edizione 2016-2017, trasformato dopo la rivoluzione estiva di Cosentino e Preiti, ma che continua a stentare e soffrire in campionato dove ha collezionato ben 6 sconfitte in 10 partite. Lui è Manuel Sarau, attaccante milanese classe 89, ex Lumezzane, Savone e Lecco, né nel precampionato né durante il torneo. E' finora riuscito a farsi notare di incidere, continuando a rappresentare un oggetto misterioso, ora con la guida di Zavettieri, la quarta dall'inizio della stagione. Prova a ricandidarsi per una maglia da titolare e da superare un primo scorcio di stagione nelle poche apparizioni fin qui, assolutamente anonimo. Ci proverà con i gol cercando di guadagnarsi la fiducia di tecnico, compagni, di squadra ed ambiente. Ma diciamo che non è facile giocare poco, non giocare per nessuno, però io sono qui per lavorare e per fare il meglio per la squadra. Quindi io quando sono impiegato 2, 10, 20, 90 minuti devo solo pensare a fare ciò che mi chiede il mister per il bene della squadra. Soprattutto la difficoltà è mentale, secondo me perché c'era un blocco dovuto dai risultati, comunque dalla situazione che tutti sappiamo. Però adesso è arrivato un nuovo mister e da oggi abbiamo iniziato da virgoletto un nuovo campionato e dobbiamo pensare solo a lavorare ogni giorno per giorno e allenamento per allenamento. Poi la domenica sarà lo specchio della settimana, quindi bisogna solo lavorare. Ti ripeto, per superare la situazione bisogna solo lavorare, ascoltare il mister, cercare di essere sempre positivi durante la settimana perché anche una parola detta in modo positivo in settimana te la riporti la domenica. Quindi dobbiamo stare tranquilli e andare dietro al mister. Domenica andiamo a Monopoli a fare battaglia come d'altronde tutte le squadre di questo girone, quindi non c'è differenza dalle altre partite, sono tutte difficili.